4, 3, 2, 1, diamo! 40, destra, intornante, sinistro, sì, più! 60, a 4, tienila, tienila a 4, ritarda poco in D4, più lunga, 4 più lunga, 30, attenzione, tornante, tornantino destro chiude, taglia 4 più, 30, 4 più taglia la 30, a 3 meno, in D4, più di 5 vai, 40, lo specchio destra in taglia 3 a prevale, destra in taglia 3 a prevale, 40, di 4 meno, vai sì, 4 meno, vai sì, tornante sinistro, sì, più! Bravo Gianlu, dai così! Puliti, eh! 80, a 5 più, a 5 più, 50, attenzione, tornantino destro, non tagliarlo, fallo leva, eh! Non tagliarlo, però! Da qui pieno, a 30, anticipa 5, in D5 meno, per D5, 30, ritarda, a 5 vai, a 5 vai, per D5, 80, al ceppo, 30, tornante sinistro! Dai, 40, stai largo, tornantino destro, stai largo, tornantino destro, 30, stai largo, in A5, lunga, ritarda, la vai, lunga, ritarda, la vai, in D5 meno, in sinistra per D5, 40, taglia 5, vai pieno, sì, 50, a 4 più si vai, 4 più si vai, 80, a Re, il D5, per ritarda poco, D3, ritarda poco, D3, in taglia, 4 più, 4 più, 4 più in A5, vai, per D4 meno in A5, 80, 4 meno in A5, 80, per D5, pieno, stai a sinistra, al dosso pieno, 30, in destra per A4 meno meno, destra per 4 meno meno, in D5 vai, D5 vai, 80, A5, 60, al muro, pieno, meno, 150, ai cartelli, ritarda poco, D5 meno meno, 5 meno meno, 40, 4 gira vai sì, 4 gira vai sì, 20, in D5 più, stai largo, 5 più stai largo, attenzione, destra in taglia, 4 più vai, 4 più vai, 60, 4 gira chiude, attenzione destra, 3, di 3 più, in A5, 80, 30, tieni D5, taglia 5, vai, D5, per taglia 5, vai, 30, tieni D4, per taglia bene, a 4 più salto, 4 più salto, in D5, 60, a Re, la ritarda, 3 lunga vai, 3 lunga vai, ritardala, per D4 gira, 4 gira, 30, al cartello, a 4 gira vai, 30, ritarda bene, di 4 più vai, 30, su dosso, a 5 vai, a 5 vai, 60, stai largo, a 5 lunga, al muro, di 4 meno sì, di 4 meno sì, e da qui pedala, 40, di 5, in A5 lungo, 5 lungo vai, andiamo qua, 40, all'azzurro, a 5 meno meno, vai, 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 60, sinistra, per destra, 5, 80, alle case, tornante sinistro, più leva, 200, destra, destra, in A5 vai, a 5 vai, 40, in D5 pieno, 60, tieni A5, e attenzione, destra, in sinistra, per destra, 5 vai, destra, in sinistra, per destra, 5 vai, 60, taglia al muro, di 5 più, 5 più al muro sì, 30, destra, in anticipo a 3, gira vai, anticipa la E, gira vai più, per ritardala bene, ritardala bene, 4 gira molto, 40, taglia a 4 meno meno, 4 meno meno, per destra, in A5, per D5, stai largo, A5, 4 e 14, buono o no? Scivola, però, non so, è il cazzo, però mi aiuta, quant'è che facevo, 4? Eh, la prima mi ricordo,